È tornato! Sì, pensavo che non ci fossi affatto. Sono passati sette anni! Picchiato o ancora arrabbiato? Oh, per favore, fa un culo a me! Sto solo dicendo. Molte cose sono cambiate dalla morte di Marcos. Con il processo decisionale. Quindi, invia il messaggio alla persona giusta. Benvenuto a casa. Ti farò desiderare di non essere qui. Ti saluta il nuovo status quo. Sappiamo tutti che l'alba sta arrivando. Accendi la TV! Benvenuti allo spettacolo. Nei momenti cruciali mantieni le cose semplici. Chi incontri quando cammini per strada? Dopo una pausa di sette anni mi manca qualcuno. Chi l'avrebbe vedetto? Dettaglio il suo programma di stasera. Radio Diamo torna in città. Gustavo sta camminando. Cosa significa questo per la tua famiglia? Ho buone notizie? Era distrutto e spaventato. Non voglio sembrare antagonista. Ma diavolo è un codardo! Puoi prendermi come vangelo? Ho l'attenzione del pubblico? Impossibile! Sono visivo e soprattutto uditivo. Non dargli più tempo. Non ascoltare nulla di ciò che dice. Compra un buon telefono. Ma devi scappare! Come nascondere la radio. Andiamo a guardare il video. Oggi è scomparsa la sua auto. Tutto andava bene quando tutto andava bene. Dove sei? Col successo! Sono entusiasta di tornare in onda. Se capisco è passato fuori tempo da quando qualcuno ha parlato con il diavolo alla radio. Beato te peccatori, che vecchio suono! Invece di creare un normale podcast video. Venire! La crescita è negativa? Stai studiando per gli esami? Perché non tornare con una storia da polazzo? Ignore sui tweet! Nuovi eventi appaiono ogni giorno. Stai guardando il futuro ed è successo nel passato! Vox è davvero così potente come sostiene. E a causa dell'aiuto di Gesù! Si sentiva impotente senza gli altri. Venire! La panna contiene zucchero. Mi ha invitato nella sua squadra. Ha detto di no e ora sono arrabbiato. Ma è colpa dell'auto? È più chiaro di prima! Condivido le mie preoccupazioni! Ahimè la tv è spenta! Ti distruggerò amore mio! Scusa, non l'avevo menzionato. Iniziamo. Ti amerò per sempre unito a me. Si sono registrati di recente. Inizia ora il tuo status quo. Oh, quant'è carino. Sarpa! Grazie a tutti